Il calcio, l'ottio dei popoli. Io l'odio, il calcio. Gliel'ha preso! Gliel'ha preso! Gliel'ha preso? Gliel'ha preso! Che gliel'ha preso! Che gliel'ha preso! Perché trovare l'uomo giusto è così dannatamente difficile? Ho trovato l'uomo nella mia vita. Architetto. Scorpione, ascendente, pirancio. Ah, è perfetto, è lui. E quindi l'architetto è andato? Sì, assolutamente sì. Non ho ancora capito che ci trova. Neanch'io. Beh, però magari è simpatico. Intelligente. Esuberante. Sì. Ho sposato un coglione. Alice. Mi fai che non... Beh, ho sposato un coglione! Vabbè, allora. Ma è vera questa cosa che ha detto Alice, che ti vuoi trasferire da me? Quanto l'odio. Ti prego, mettiti una camicia. Ma ringrazio a Dio che ho le scarpe, va. Voi non lo amate l'uomo. Voi lo combattete. Ma perché? Ciao, Alex. Bruno. Questo è un dramma di Facebook che mi si è materializzato sullo schermo del computer. Vent'anni dopo mi scrive, ti ricordi di me? Bruno Salini andavamo a consa insieme, col pedalò. Ma chi cazzo sei? Miriam. Ciao. Ho dimenticato la borsetta. Te la prendo io. Faccio io. Non mi faccio io. Non mi faccio. Eh... Va facendo la doccia. Grazie. Prego. Stai in doccia! Sono Miriam. Eccolo. Si è dimenticato di pagare la bolletta, eh? Giusto, sbagliato, perso, trovato, preso, lasciato, una perplessità. Ah, 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 ah